Nel suggestivo scenario della riviera di Tragara è stato consegnato a Scario il premio Lugarli 2018 allo scrittore e accademico letterario Claudio Magris. Un'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Oltre Pisacane in collaborazione con il Comune di San Giovanna Piro e il Polo Museale, che giunta alla sua quarta edizione può registrare al suo attivo la presenza nel corso dei quattro anni precedenti dei più importanti scrittori, letterari e sceneggiatori del palcoscenico italiano. Nello specifico il premio è stato assegnato allo sceneggiatore e produttore cinematografico Pupo Avati, allo scrittore e traduttore italiano Raffaele Lacapria, in concomitanza al critico letterario Silvio Perrilla e alla scrittice e poetessa Dacia Maraini. A consegnare il premio a Claudio Magris è stato il sindaco del Comune di San Giovanni Appiro, Ferdinando Palazzo, che è il risultato entusiasta per la presenza a Scario di uno dei più grandi saggisti italiani e per la realizzazione della manifestazione per la prima volta nel Comune di San Giovanni Appiro. Dopo la consigna del premio Claudio Magris ha discusso poi con l'avvocato Franco Maldonato, ideatore del premio, di alcuni temi di valore universale come l'arte, l'amore e la cultura.